In tutte le Marche, dal 7 gennaio, tornerà la didattica in presenza nelle scuole superiori. Si torna però al 50% della capienza di ogni istituto, con le classi che a rotazione si alterneranno fra banchi e didattica a distanza. E' quanto deciso dal tavolo di confronto fra ufficio scolastico regionale, prefettura, sindacati e regione Marche. Aspettando i prossimi di PCM, probabilmente a metà gennaio, si sceglie dunque una soluzione intermedia. Scongiurata infatti l'ipotesi del doppio turno, con due turni d'ingresso scaglionati a distanza di due ore. Rimandato però il ritorno della didattica al 75% come inizialmente ventilato. Una soluzione che mal si sarebbe conciliata con le difficoltà del trasporto pubblico scolastico nel garantire le capienze ridotte sugli autobus. L'intenzione è però di avvicinarsi a quel 75% e anche le aziende di trasporto scolastico Adribus e Ami dal 7 gennaio monitoreranno la situazione per comprendere come conciliare un complesso gioco di incastri. Intanto si ricomincia con la stessa dotazione di mezzi con cui si erano interrotte le lezioni il 3 novembre. Dai dati forniti alla prefettura sarebbe emersa la necessità di 80 autobus in più in caso di doppi turni ora scongiurati, ma serve comunque una implementazione che le aziende di trasporto cercheranno di far salire a 22 autobus aggiuntivi che porterebbero il parco macchine provinciale a 307 mezzi. Una soluzione per scongiurare il sovraffollamento degli 11.000 ragazzi che ogni giorno vanno a scuola in autobus su un totale di 16.700 studenti della provincia.